BMW MB3, secondo semestre nel 2011 con 60.000 km, tutti tagliandati Cambio automatico a 7 rapporti con drive, logic e pad al volante, il top Motore 8 cilindri a V Cilindrata 4 litri Potenza 420 cv Da 0 a 100 in 4.8 secondi Ma ora basta con questi dati, facciamo cantare il motore Non la tengo più! Non la tengo più! Non la tengo più! Si! Non la tengo più! Grazie per la visione